Mi chiamo Tommaso Bonseri Capitani, sono lo chef del Sanni Valli Montelloggia e sono un componente della Nazionale Italiana Cuoco. Ma in realtà non so neanche se sono appassionato, cioè io sono malato di cucina. La mia terra d'origine è fondamentale, io prendo ispirazione guardando solamente per terra, perché è da per terra, quindi dalla terra, che nasce e cresce un'idea, un progetto e soprattutto un piatto di successo. Insieme ad Orogel abbiamo avuto l'opportunità di preparare tre menu rispettando innanzitutto la stagionalità, la territorialità degli alimenti, ma soprattutto la cultura enogastronomica italiana. La collaborazione con Orogel ci permette di avere sempre un prodotto fresco, di alta qualità, ma soprattutto italiano. Quindi per mantenere un altissimo standard di qualità, dove non si arriva col fresco, si può arrivare facilmente attraverso l'utilizzo di un prodotto surgelato di altissima qualità. A mio avviso l'ingrediente per avere una ricetta perfetta è passione nel realizzarla.